Gentili telespettatori, buona giornata. Il cognato ministro Lollo Brigida dice che la sinistra e i giornalisti cresciuti a champagne non conoscono l'odore dell'etame. Perché? Adesso lo scopriremo perché. E così il ministro dell'agricoltura sui social si scaglia contro i miopi benpensanti che deridono il governo perché tutela le ragioni degli agricoltori e dei pescatori. Giornalisti cresciuti a champagne. Diciamo che i giornalisti non mi sembra una categoria di milionari che crescono a champagne. Voi sapete che i giornalisti la maggior parte prende 25 euro ad articolo. L'ordo ci deve pagare le tasse. 25 euro ad articolo. Poi ci sono i giornalisti intesi come conduttori televisivi che allora quelli prendono centinaia di migliaia di euro. E' un po' come dire che i venditori sono cresciuti a champagne. Ci sono venditori ricchi che hanno la villa con piscina e ci sono venditori che non sanno come mangiare a mezzogiorno. C'è venditore e c'è giornalista e giornalista. C'è il giornalista che non sa come pagare l'affitto e c'è il conduttore televisivo. Non so, porro, del debbio, formigli, gli altri, gruber, eccetera, eccetera, che prendono centinaia di migliaia di euro all'anno come conduttori televisivi. Forse magari quelli oggi vivono a champagne mentre gli altri no. Però, insomma, Lollo fa di tutta un'erba un fascio e dice che i giornalisti sono cresciuti a champagne e anche le sinistre. Anche lì, le sinistre, c'è persona di sinistra che non sa come mangiare a mezzogiorno e poi c'è quello con il Rolex. Insomma, dire e fare tutto un insieme, insomma, non è propriamente. Non conoscono l'odore dell'etame. L'odore dell'etame è quello che senti quando sei nei campi o nelle fattorie, per concime, per esempio. E allora dice Lollo, il cognato ministro, parlano e scrivono continuando a pensare che quel che dicono faccia divertire. I giornalisti scrivono pensando di far divertire? Lollo, mi spiace continuare a correggerti, però com'è che i giornalisti scrivono pensando di far divertire? Un giornalista non è che scrive pensando di far divertire, un giornalista scrive pensando di scrivere una roba seria. Poi lavora magari per il giornale fazioso di sinistra o magari per il giornale fazioso di destra e quindi devi seguire le linee dell'editore. L'editore ti dice mazzulare la destra, mazzulare la sinistra e tu o fai così o ti puoi cercare un altro lavoro. E non sono proprio tempi per cercarsi un altro lavoro questo nel giornalismo, visto il calo delle vendite e dei fatturati. Però secondo Lollo Brigida i giornalisti scrivono pensando che faccia divertire quello che scrivono. Comunque, contento lui. Prendono in giro chiunque ami la patria. Beh, ci sono giornalisti di destra e giornalisti di sinistra. Non è che tutti i giornalisti prendono in giro chiunque ami la patria. Ah Lollo Brigida, ma che stai a dire... Poi, ripareremo noi i danni che hanno creato i giornalisti. I giornalisti, quelli di Libero, del Tempo, hanno creato danni che lui sta riparando. Boh, sembra di commentare all'Ishlein. Con umiltà e pazienza e ogni sorriso che incontreremo nelle piazze, nelle fabbriche e nei campi ci ripagherà per aver sopportato tutte le parole e i fiumi d'inchiostro intrisi di livore di questi poveri miopi ben pensanti. Quindi, vabbè, andiamo avanti. E così il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollo Brigida, affida ai social questo suo sfogo. L'esponente di Fratelli d'Italia attacca sinistre e giornalisti cresciuti a Champagne perché a suo avviso ci deridono perché non perdiamo occasione di promuovere i nostri prodotti e ringraziare i nostri agricoltori, pescatori, artigiani, imprenditori. Ci sono alcuni giornalisti che non è che deridono i prodotti italiani, ci sono alcuni giornalisti di sinistra che deridono Lollo Brigida, non i prodotti italiani, è diverso. Cioè il giornalista di sinistra non ce l'ha perché Lollo Brigida promuove la pasta nello spazio. Ce l'hanno con Lollo Brigida, non con la pasta nello spazio. E ce l'hanno con alcuni mezzi di informazione che come prima notizia ti raccontano che la nostra pasta è andata nello spazio. Ecco, il giornalista di sinistra non deride la pasta nello spazio ma deride Lollo Brigida, che è diverso. Quindi il giornalista di sinistra non ce l'ha con i prodotti italiani, ce l'ha con il governo. È un po' diverso. Del resto, dice Lollo, nei loro salotti e nelle loro redazioni l'odore di letame non arriva. Naturalmente si parla dell'etame dei campi, non dell'etame del bagno che c'è alla stazione. La Meloni aveva invitato i suoi ministri di tenere i toni bassi e di non intralciare il lavoro del governo con polemiche politiche e polemiche inutili. Voi direte, ma questa è una polemica importante? No, perché Lollo Brigida sta creando questa polemica perché hanno criticato alcuni giornalisti il fatto che alcuni telegiornali hanno messo la notizia della nostra pasta che va nello spazio come notizia più importante magari di altre cose che realmente sono importanti. Quindi la Meloni aveva detto, non creiamo polemiche. Cioè se qualcuno di sinistra dice, ma è importante mettere come notizia la pasta nello spazio. E la cosa migliore è star zitti, non dire niente, perché quella polemica dura due ore. Fra due ore, se non c'è nessuna replica, nessuno dice più niente. Se Lollo Brigida non avesse commentato questa roba qua con la storia dell'etame, nessuno parlerebbe più della sinistra che diceva Ah, ma il telegiornale c'è la notizia della pasta nello spazio prima di altre notizie. Ecco, la sinistra ha detto quello, polemica, due ore. Se Lollo Brigida non avesse risposto con sta storia dei giornalisti con lo champagne e l'etame, la polemica si sarebbe chiusa, nessuno ne avrebbe più parlato, nessuno se ne sarebbe ricordato e non avrebbe spostato neanche un voto. La Meloni dice, tenete un profilo basso, cari ministri. E poi, come vedete, i ministri, i cognati ministri, non ascoltano la Meloni oppure non hanno le capacità di ascoltare la Meloni. Una cosa è se tu non vuoi ascoltare e fai quello che vuoi, una cosa è che tu sei così e anche se ti dicono le cose tu rimani così e continuerai a dire e a fare le cose perché tu sei così. Sì, avete capito la differenza, no? Arrivederci a tutti e grazie.